Un po' di sano relax e un pochino di vino per riposarmi dal pomeriggio frenetico che ho avuto. Diario, diario di Maddalena. Oggi, che giorno è oggi? Oddio, il 3 ottobre forse, sì, fammi guardare un attimo che giorno è che non mi ricordo. Mercoledì 3 ottobre 2012, oggi pomeriggio, uscita alle due e mezza, andata dal caro amico Francesco che sta sulle stampelle perché quest'estate si è rotto una gamba e allora l'ho accompagnato al Giangaleazzi a fare i controlli di prassi e poi al Giangaleazzi abbiamo aspettato, abbiamo fatto le visite, i controlli eccetera eccetera e poi siamo usciti, siamo andati all'Esselunga a fare la spesa perché il povero amico con le stampelle da solo non gliela fa e allora gli amici che ci stanno a fare e poi siamo andati a fare la spesa all'Esselunga, siamo andati a portare un monitor a riparare ma che tanto non si poteva riparare perché tanto si sa l'obsolescenza programmata, tutto si rompe dopo, se tutto va bene, 4 anni e poi così come una sorta di messaggio cosmico, dalle stampelle, ho riaccompagnato Francesco, ho preso il metro e guardate un po' che cosa è successo nella metropolitana, un inno alla vita, alla vitalità, ai giovani, sì lo so che può sembrare molto retorico ma è proprio così e quando guarderete il video vi accorgerete perché allora io adesso mi prendo il mio relax e vi lascio al video e vi saluto, Milano è una grande città nonostante tutto, accade di tutto, prendete i mezzi pubblici perché ne capitano di tutti i colori e tutto un gran motore che gira. Arrivederci da Maddalena. C'è una bellissima fredda di tutti i giorni con il mio relax, all'interno di tutti i giorni. è una bellissima fredda di tutti i giorni con il mio relax. Ciao! Ciao! Una bellissima fredda! Fate una bellissima fredda! A tutte le bellissime di questo mondo! che caldo hai ragione che c'è dietro di me? noi non li conosciamo è meglio che andare in macchina perché accadono delle cose questo è il canale di Maddalena 61 no sei tu Maddalena? ma io ti tengo tra gli amici ti seguo se è un vinto è un vinto ciao faccio Maddalena accade di tutto a Milano ma sei un vinto sei un vinto vivente giuro sei un vinto vivente ma scusate sono un vinto e non mi hai riconosciuta ma perché sei a ridamata sto scherzando sto scherzando come vi chiamate? ehm Dario ciao vabbè domani lo carico carico ecco caricolo così io ti lo commento e dico ciao da parte di tutti i pazzi di Milano che si possono incontrare sulla metroverde usate i mezzi pubblici stiamo facendo pubblicità da TM dovrebbero pagarci eh infatti faccio un'escrizione speciale sulla mia canzone preferita del momento vabbè vai viva Michael Jackson Michael Jackson alla prossima scendi eh non te lo scordi grazie ma è tutti i bambini devo stare a guardarmi vabbè no la cosa grave è che ho 50 anni capito ma no questa è la cosa migliore non è normale questa cosa non va benissimo vabbè un saluto a tutti da Maddalena e dal metro di Milano ciao ciao